Buongiorno, benvenuti a questa capsula, io che è una l'impresa di Neologismo. E noi lo facciamo, e non facciamo una telefono. 3, 4, 5, 1. Pronti? Allora, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ora manca di prezziare un tecniciano perché c'è dei problemi in mezzo. Oh, è, c'è... Prende la banca che dovrà rendere, c'è una macchina a lavare, che fa due persone che mettono a casa in cieca, c'è un boiler che perdono, e c'è un fuori al microondas, che non c'è più niente. Allora, se voi possiamo mandare un buon rinzetto senso, e sarò contento. Ma, è stato di nuovo, è stato di nuovo, è stato di nuovo, è stato di nuovo, è stato di nuovo. Ecco, e per il paio e mezzo, c'è un po' di portare un blocchetto di poste. No, poi le poste, prezzo un po' di verde, prezzo del paio e mezzo. Oh, è mio, è mio. Ok, d'accord, merci, au revoir, danke. E questo è quello che abbiamo fatto, tutto il discorso, io che non ho preso delle cose, delle cose che abbiamo fatto, 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 come la macchina lavare, lo boiler, lo foro al microondas, e, evidentemente, sono un po', magari, le parole che non pensano, che non pensano a delle parole, di un patoè, ma sono delle parole che, in breve, e che ciò, sì, che prezzo un patoè, adatto, prendono, magari facendo dei, di sempre un decarico, e partendo d'otre le lingue, ma quella che, la creatività, e la velocità di una lingua, c'è anche un decennio, ed è fatto che, in quel caso, arrivano a creare, delle parole, novelle, come, ma delle parole, che magari non pensate un po', per esempio, ok, non possiamo dire, a modo, ma non possiamo dire, ok, poi niente grave, e funzioni, l'importante, è che il tecniciano, venisse invece, a rizzare, lo boiler.